Presidente Squinzi, la recessione alle spalle, ci sono segnali di leggera ripresa. Come affrontare, come trattare questi segnali di ripresa? Dobbiamo cercare di cogliere questi segnali esterni, questi contributi esterni che ci sono arrivati e soprattutto dobbiamo concentrarci sulle riforme interne del nostro Paese. Dobbiamo fare prima di tutto, la cosa più importante è fare i lavori domestici in casa nostra che altrimenti non saremo capaci di intercettare una ripresa che sarà comunque forte. Quali sono le riforme che bisogna attuare con maggiore priorità? Quelle di cui stiamo parlando da così tanto tempo, sicuramente le riforme politico-istituzionali per assicurare una migliore governabilità, una più stabile governabilità e poi tutte le riforme, le riforme della pubblica amministrazione, il titolo quinto della Costituzione, la riforma fiscale, la riforma della magistratura. Dobbiamo mettere le mani su tutto quello che sono i piombi che ci portiamo sulle spalle come Paese e che non ci permettono di competere alla pari con gli altri Paesi concorrenti nostri e anche con gli stessi Paesi dell'Unione Europea.